Immagini di donne, alcune in posizioni sensuali sulla vetrina del comitato elettorale di noi con Enrico Randi. Fra chi le ha definite oscene, offensive o un basso stratagema per far parlare di se stessi, a Lugo, lunedì, la scelta di uno dei candidati sindaco ha fatto discutere molte persone. La campagna elettorale di Enrico Randi è partita in anticipo lo scorso anno ed è stata interamente incentrata su una serie di strategie fuori dagli schemi classici della politica nostrana. Randi ha impostato la propria comunicazione sui social network con la pubblicazione costante di una serie di video dedicati a diversi temi, criticando aspermente il sistema amministrativo di Lugo e la classe politica. Contemporaneamente il candidato ha iniziato ad incontrare le imprese e le diverse realtà del territorio. Pubblicamente si è visto poco, ma la prossima settimana dovrebbe essere organizzata una vera e propria presentazione a stampa ed elettori. Abbiamo provato a contattarlo per un commento in merito alle polemiche sorti in giornata, ma il team, più volte citato anche nei video, ci ha fatto sapere che il candidato al momento non rilascia interviste, è troppo impegnato e le risposte alle nostre domande sarebbero arrivate solo in forma scritta. Il team di noi con Enrico Randi ha spiegato di aver scelto di affiggere quelle immagini come messaggio per l'affermazione femminile, la fecondità, la bellezza, la gestione matriarcale, per incoraggiare il mondo femminile a prendere posizione. Mitizzare la donna significa esorcizzare la paura. Si dice che laddove è più forte il matriarcato, la paura della morte e del dolore siano meno sentiti. Questa la spiegazione. Randi ha fatto notare che lui stesso, in una Romagna tradizionalmente matriarcale, ha dovuto chiedere il permesso alla moglie per candidarsi. A nostra richiesta, però, il candidato sindaco non ha voluto entrare nel merito delle polemiche, non ritenendole costruttive, ma assolutamente escluso che immagini di quel tipo possano veicolare il messaggio di oggettivazione del corpo femminile. Secondo Randi, chi pensa il contrario è colui che si vergogna dei propri inguaribili pregiudizi. Innegabile, però, la provocazione di quelle foto sulla vetrina pubblica di un comitato elettorale. Randi ha spiegato che l'obiettivo era stravolgere le cose dormienti della città di Lugo. Dietro alla scelta delle immagini ci sarebbe uno studio, un messaggio di cura e arte del femminile per far scotteruire delle domande. Ad accompagnare ogni foto, anche un numero, una sorta di rebus, hanno spiegato dal comitato, invitando gli elettori a risolverlo. La soluzione dovrebbe essere fornita il giorno dell'inaugurazione della sede elettorale.